Grazie a tutti. 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 Buon appetito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi sono insinutato i miei fortunati, mi hanno giocato il sabato, 5 pari sono stati a rigore, si è fatto il girone, l'avete giocato con noi, loro hanno detto no rifacciamo, cioè la rigiocchiamo, sono arrivati i pari, eravano 6 pari, mi fanno no vabbè ma rigiocchiamo, non ho senso, loro hanno fatto 5 pari, e sono usciti dal campo, si si, e infatti comunque si lo tengo io, non ho bisogno, non è un po' che fanno, non ho bisogno, non ho bisogno, non ho bisogno, Calmo Ale, dai Ale è facile! Figa, 5-10. Figa la sta rifunciando. Cambio, arbitro! Testa di cazzo! Ah, porco dio! Cos'è che hai Gigi? Ah! Ma chi è? Sì, bravo! Che minuto siamo, Tomi? Il sedicesimo. 16. Non c'è che hai scopato a 12 minuti? Sono entrato tipo attorno al 12, così. E' un po' anticipato. Vabbè però, non di tanto. E' un paziente. Vestito come un lato, con figli allarghi. Sì. E' una parabra di grazia. Sì, sì, sì. Quindi siamo usciti a 15? 16. Sì, 16. Come se ne avessi fatto i 9, si è giocato fino a fine. Sì. 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 Piovani è casa. Sì. È unpoolo Ch питatrica. Ci sono state. Sì. 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 Attenzione, fai tirare, attenzione, dai coraggio, dai, hai lasciato tirare qua. Grande gol, bello, aprile, bello, l'angolino è bello, grande gol, eh bene, mette 5 minuti a tempo. L'angolino è un po' di più, che è la zona, l'angolino è bello, l'angolino è bello, l'angolo è bello, l'angolino è bello, l'angolino è bello, che giocchia. Oh, Vincenzo! Oh, Vincenzo! Oh, Vincenzo! Qua ci devo trovare! E già, che ti ha fatto? Ok, ok, ok! Vorrei fare girarvi e vi andare in un'altra parte. C'è un rigore! E poi, non mi sono fatto mai! Ehi! 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 Bravo Filo! Bravo Filo, dai! Perfetto, dai! Attenzione, eh! Sempre tiri... Attenzione! Come va, Gigi? Meglio? Meglio! Un minuto e mezzo, ragazzi! Attenzione! Non mi sta al cielo! No, è un minuto e mezzo, volevo dire quattro minuti! Sono confuso con l'altro! Sono confuso con il torneo! Sono confuso con il torneo! Poi 25 tempo! No, è un minuto e mezzo! No, è un minuto e mezzo! No, l'altro era di marzo! È un minuto e mezzo! Ma domani dovrebbe essere una bella giornata, per cui se volete mangiare! Oggi stavo per uscire a Pulevi di Rugliana! L'uomo è una bella giornata! È un minuto e a Pulevi di Rugliana! Nella! Senta! No, no, no! No, no, no! No, no, no! Pulevi! No, non! No! Il nome è bravo! Attuare, attuare! Capito, capito! Grazie a tutti. 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 Sì, scrimmete. Sì, scrimmete. Sì. Ciao! Fai domini moti, eh? Sì, scusate. Sì, vabbè, dai dai dai. Sì, vabbè. Sì, vabbè, giù è già... Sì, sei minuti. E stai in giù. Dove sono? Due pere Se no ho capito che hanno avuto vero Adesso Se non ci vuoi mai mezzo nessuno Se non comparevo c'è un sicuro Se non le ha avuto Se non lo frutto Vין kokide Vedo la tendenza Sì, perché wouldessä Quals ? Che permette Tочь Cuanto Allargi tu, allargo io, ciò che le vedi. Voi trovare i copriani. Voi scopri, non c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa. C'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa. Non c'è un'altra cosa. In scopo, in scopo. In scopo. In scopo. In scopo. Applausi. In scopo. Applausi. MEGLI, sì, boa prova. L'argeti qua! Stefano, STEO, dai, STEO! Era eh? Beh, grazie. bravo bravo farfall no 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 bravo 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 mi un è stato un po' di somme. Vieni Moce! Vieni il gol! Bravo, eh? Dobbiamo tenere, manca in tre minuti. Tre minuti, sì. Come stai Luigi? Come stai? Ma... Gamba? Vabbè, dai. Dai, bel gol è anche questo, dai. Un po'... scivolato, insomma. Vabbè ci vuole. Sì, sì, ci vuole anche quello. Ma non sono male, eh. Però... Carlo e Lietti non sono sani. Poi li rivedrete, però. No, non sono sani, nel senso che non possono gridare così, cazzo. Dio, non c'è un motivo perché mi metto qui io. Cava non doveva segnalare, non doveva segnalare. Se guarda lo spagnano, segnala... Per la calcia. Beh, comunque non è andato male. Per un momento. Due minuti! Due! Levanta nero e non fare errori. Gossolani. Due minuti sono tanti. Viva! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti